Musica Ben ritrovati con Terzo Tempo, il format qui in Veneto che racconta la giornata, in pratica si fa il bilancio di quello che è stata appunto il Torneo delle Regioni, qui ci troviamo alla fine della terza giornata, una giornata importante perché è stata giornata appunto il bilancio di quello che si è fatto fino ad ora ma soprattutto si è stato l'esito appunto alla fine dei gironi su che squadre possono e hanno staccato il pass per i quarti di finale che ci saranno mercoledì perché domani ci sarà la giornata di riposo per quanto riguarda martedì 4 aprile e ovviamente chi è andato a casa e chi andrà tornerà domani a casa. I primi due ospiti di questa serata sono tutte e due lombardi, tutte e due vincenti di questo oggi, tutte e due hanno staccato il passo dei quarti di finale quindi li vedete sorridenti ovviamente. Alla mia sinistra comincio dalle femminili, dalla compagine femminile, mister Riccardo Franco, buonasera mister. Buonasera, buonasera a voi. Alla mia destra mister Daniele Balzano dell'Under 17. Buonasera a tutti. Comincio ovviamente con la compagine femminile anche perché è stata l'ultima che ha giocato mister prima nel girone, la sua Lombardia, una gran bella Lombardia, l'abbiamo commentato in telecronaca con mister Davide Giffi, soprattutto a me ha impressionato Giulia Cascio che nonostante i due gol però ha dato ampia dimostrazione, come giocatrice totale secondo il mio punto di vista, il modesto punto di vista però a parte tutto un grande collettivo oggi. Ma sì, sono d'accordo con te, non mi piace parlare, lo sai, dei singoli, Giulia fa parte del nostro gruppo, è un membro molto importante del nostro gruppo ma credo di poter dire che anche oggi abbiamo fatto una buona partita, tre vittorie su tre, non abbiamo ancora subito una rete quindi siamo molto contenti di questa cosa, un percorso che abbiamo iniziato tempo fa e che finalmente sta portando i risultati sperati diciamo, questo era quello che era l'obiettivo e abbiamo raggiunto il primo nostro obiettivo che c'eravamo posti, siamo molto contenti. Eh sì, ovviamente era un match con un po' di leggerezza perché entrambe Lombardia e Abruzzo erano qualificate e si ritroveranno mercoledì, al momento i sorteggi ancora non vengono effettuati però si troveranno tutte e due ovviamente mercoledì ai quarti di finale e ora ovviamente si deve fare anche uno sguardo verso le altre squadre. Certo, fortunatamente faccio i complimenti all'Abruzzo perché comunque ci ha messo in difficoltà, abbiamo trovato un buon avversario, mi ha fatto molto piacere, c'è la partita molto corretta però mi ha fatto molto molto piacere giocare contro di loro, sicuro all'inizio eravamo già sicure entrambe del passaggio del turno, poi vabbè il sorteggio oramai sarà, vediamo che cosa viene fuori quindi dopo sono tutti uguali perché siamo tutti così, però diciamo che secondo me abbiamo dato vita a una bella partita, entrambe con la volontà di fare bene e via dicendo. Abbiamo prevalso noi, va bene così, siamo più contenti, ci mancherebbe però sono molto contento perché anche loro non le potremo incontrare, quantomeno nei quarti, quindi vediamo poi che cosa succede strada facendo. Comunque auguro anche a loro il percorso migliore possibile e immaginabile. Per un volco già mister Daniel Balzano perché questa mattina l'Under 17 secondo me ha fatto una grande partita, probabilmente ho visto una delle migliori squadre fino ad ora che ha affrontato l'Abruzzo, ha battuto l'Abruzzo 7 a 3, si è guadagnato il primo posto, il passaggio del giro, ne ha staccato il passo nei quarti finali. Lei ha detto poco fa, prima di sedersi, noi il nostro già l'abbiamo fatto e anche arrivare ai quarti finali è un grande onore. Storicamente la Lombardia nel 15 e nel 17 non è mai passata nella fase successiva, quindi per noi portare la Lombardia come nel 17 nei quarti è storico. La cosa ancora più eccezionale è che abbiamo fatto tre vittorie, tre vittorie con un bel gioco perché quello che avete visto oggi è stato fatto anche con l'Umbria, è stato fatto con la Sardegna. Qua Sardegna abbiamo resistito 13 minuti contro il portiere di movimento non subendo gol e oggi ancora a portiere di movimento 12 minuti dalla fine subendo solo un gol, con l'Umbria altri 8 minuti, quindi diciamo che i miei ragazzi sono sul pezzo. La cosa che chiaramente mi soddisfa è che giocano con serenità, stanno vivendo il torneo come deve essere vissuto, ma devo fare i miei complimenti ai tutti i mister che hanno allenato questi ragazzi perché questi ragazzi non sono un blocco unico, sono bene o male 6 o 7 società, sono tutti ragazzi che giocano nel 19 nazionale, quindi tempo effettivo, sanno usare i piedi, sanno usare il cervello. Io sono stato bravo solo e esclusivamente a fare una selezione, ho fatto il selezionatore, non l'allenatore e sono veramente contento. Secondo me non c'è un giocatore, o quantomeno stamattina che è salito soprattutto, ma c'è stato un bel collettivo, poi ovviamente Giusti ha fatto una grande partita a livello offensivo, però tutti hanno fatto la loro piccola parte. Oggi Alessio ha fatto 4 gol, la prima partita Alessandro ha fatto 4 gol, quindi non abbiamo il super giocatore, ma abbiamo dei giocatori di livello. Tenete presente che oggi abbiamo giocato tutti, quelli che hanno giocato meno le partite precedenti hanno giocato, ho avuto la fortuna di far giocare anche l'altro portiere sia nella prima partita che oggi, quindi più di così un relatore non può chiedere e sono sul pezzo i ragazzi. Ultime battute prima di lasciarvi andare fra il cosiddetto cambio, la faccio prima lei e poi ovviamente al suo collega. Al suo collega, chi squadra vorrebbe evitare ora i quarti? Tutte, no, obiettivamente credo guardando i risultati, quindi non vedendo le partite, la campagna e il Lazio penso che siano quelle più forti in questo momento, penso. Giro ovviamente la stessa domanda. Ho visto velocemente gli altri risultati, ci sono delle sorprese, delle conferme, credo di poter dire che una vale l'altra, faccio il nome del Lazio e della campagna perché sono storicamente portate ad andare avanti in fondo, però per il resto va bene tutto. Ripeto, con l'Abruzzo abbiamo già giocato, quindi va bene così. Grazie ai due mister della Lombardia, mister Riccardo Franco della rappresentativa femminile, grazie a mister Daniele Balzano per quanto riguarda l'Under 17. Li rivedremo ovviamente per quanto riguarda mercoledì in tutti i suoi quarti di finale, in quello che è il torneo. Facciamo il cosiddetto cambio volante, ma è il bello ovviamente di vivere all'interno di un villaggio in cui ci sono tante rappresentative. Ovviamente dovrebbe esserci ora il turno dell'Abruzzo, alla mia sinistra una coppia femminile, ovviamente il totale c'è una coppia femminile questa sera, alla mia destra c'è Alessia D'Alessandri che è la giocatrice della rappresentatoria femminile, alla mia sinistra. Saralelli è la fisioterapista ovviamente che cura, ovviamente si tiene, deve per forza curare sia le caviglie sia le gambe, oggi sono successi un po' di situazioni sia per quanto riguarda la rappresentativa femminile che l'Under 19. Coinvolgo immediatamente già Alessia D'Alessandri, parlavamo prima poco fa con il mister della rappresentativa femminile Lombarda, sul 4-0 sono state più brave oggi le Lombarde? Sì, sicuramente hanno avuto qualcosa in più di noi, però nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni per recuperare la partita, però è andata così. Ecco, che hai visto in più della Lombardia oggi? C'è stata Giulia Cascia, numero 4, che ha fatto una grande partita, da un paio di compagnie, sono state effettivamente più brave di voi o voi forse anche per colpa di qualche defezione potevate fare di più? No, sicuramente sono state anche più brave loro, però noi sicuramente potremmo fare qualcosa in più. Coinvolgo già Sara Lelli qui vicino a me perché oggi si è data molto da fare, tante sono state le situazioni in cui è dovuta entrare in campo, soprattutto per quanto riguarda l'Under 19, mentre per quanto riguarda la rappresentativa femminile è stata coinvolta soprattutto nei momenti in cui non si è giocato, ecco, nel pomeriggio e nella sera. Sì, il nostro lavoro sul campo è quello di intervenire chiaramente nell'immediato e cercare di rimediare il più possibile all'infortunio e fuori dal campo però viene il lavoro vero, infatti con le ragazze c'è stata fortunatamente poca esigenza, ma verrà tutta dopo perché il recupero è fondamentale e quindi tra stasera e domani cerchiamo di rimetterle al meglio per i quarti. Sì, ovviamente domani c'è la giornata di riposo, serve come questa giornata di benedetta giornata di riposo per mercoledì? Assolutamente, domani è la giornata in cui le ragazze recuperano e si procederà scarichi, come sappiamo ci sono stati degli infortuni durante queste fasi a gironi e è il momento cruciale per rimetterle in campo. Alessia, domani abbiamo detto già giornata di riposo, mercoledì si tornerà in campo, tornerà in campo ovviamente per i quarti di finale, parlavamo un po' prima delle avversarie, c'è Campania, c'è il Lazio, tutte formazioni attrezzate. Aspettiamo di vedere con chi giocheremo contro e niente. Ovviamente si parla tanto delle formazioni forse più attrezzate, Campania che ha dato tanti gol anche nelle prime due giornate, poi sperate anche di recuperare le due compagnie che non hanno giocato, soprattutto oggi, impallatore e dell'onora a giri. Sì, oggi hanno riposato, visto che non era una partita fondamentale per superare gli ottavi e quindi speriamo che recuperino al 100%. Ovviamente coinvolgo dopo questa domanda subito, sarà lì che ci avviciniamo alla conclusione, è l'onora a giri che ha riposato oggi e ovviamente anche l'impallatore che non ha giocato, ha giocato Tamara Gentili, ecco come procede il loro recupero e ovviamente si spera di riaverli mercoledì. Sì, sicuramente mercoledì sarà in campo sicuramente Leonora che già oggi era in ottime condizioni ma abbiamo preferito tenerla ulteriormente a riposo perché la sua presenza è chiaramente importante nella giornata di mercoledì e per l'impallatore vediamo come va tra stasera e domani il recupero, non ci sbilanciamo e in caso lasciamo la porta tutta Tamara. Sì, assolutamente. Abbiamo concluso questa puntata di Terzo Tempo, io ringrazio Sara Lelli, fisioterapista ovviamente al seguito della compagine abruzzese, ringrazio Alessia D'Alessandri, atleta della compagine della rappresentativa femminile e ritroveremo tutte e due ovviamente mercoledì, quarti di finale, sempre su Super G e su LNND Abruzzo e non perdetevi appunto la gara della compagine femminile e di quella dell'Under 15, una buona serata e una buona notte a tutti. Sì, assolutamente.